Musica Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel Territorio. Quest'oggi abbiamo il piacere di essere a Cortina d'Ampezzo dove incontriamo il Sindaco Gianluca Lorenzi che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a lei e buongiorno a tutti i telescoltatori. Grazie per il tempo che ci dedica Sindaco perché sappiamo la sua agenda in vista ovviamente del grande appuntamento con il 2026 è ogni giorno sempre più intensa, sempre più ricca di appuntamenti e di iniziative. Ovviamente la nostra intervista si concentrerà in particolar modo su questo tema e quindi partiamo parlando delle Olimpiadi 2026 che sono sempre più vicine. Sì, le Olimpiadi 2026 sono vicinissime, infatti c'è la volontà dell'amministrazione di vedere e concretizzare tutta una serie di progetti che finora sono sempre stati raccontati ma di fatto non c'è ancora una progettazione concreta. E di fatto anche come amministrazione abbiamo già pronunciato ai nostri cittadini che qui da fine inverno in primavera incominceremo a far vedere i progetti perché comunque bisogna far vedere qualcosa di concreto dove la gente poi possa anche gioire di quello che si farà. Oggi purtroppo c'è molta critica che è giustificata proprio da questo fatto qua che se non vedi non ci credi. Ecco, uno degli argomenti più dibattuti è stato quello inerente alla pista da Bob. Su questo fronte a che punto siamo? Beh, diciamo che i passi sono stati fatti avanti, mi sembra insomma, vedo la luce finalmente fuori dal tunnel. Finalmente lo strip out, quindi la demolizione è passata, quella dovrebbe avvenire intorno a fine inverno se non febbraio, marzo o comunque partire. Quindi è una demolizione conservativa che tiene conto di quelle che sono le prescrizioni della soprintendenza e che soprattutto all'interno del quale costruisce un tracciato culturale che rappresenti effettivamente da dove nasce la cultura olimpica di Cortina che poi sarà vicino a quello che è il nuovo progetto che io ho incominciato a vedere e sarà sicuramente orgoglio di tutti gli ampezzani, i cortinesi, i turisti di Cortina vedere un'opera di quel livello lì. Ecco, in particolar modo comunque le titubanze o comunque le discussioni erano emerse dal mondo ambientalista. Sì, diciamo assolutamente sì, però bisogna anche essere un po' concreti nel senso che anche il mondo ambientalista che io rispetto, perché poi io sono un fotografico naturalista quindi salvaguardo la natura, però trovo dei contrasti nel senso che oggi si parla di uno strip out che quindi è una bonifica dell'area coinvolta e anche su questo sono negativi. Allora, è da capire dove vogliamo stare. Se vogliamo bonificare un'area dovrebbe essere prima di dire finalmente bonifichiamo un'area e invece sono contrarie anche là. Quindi io rispetto tutti, però insomma come amministrazione non vogliamo stravolgere un territorio. È una zona già urbanizzata, non andiamo a ingrandirla di più di quello che è però riqualifichiamo una zona e un ambiente che secondo me merita di essere riqualificato. Allora, questo per quanto riguarda la pista da Bob, la preoccupazione sicuramente, insomma ce l'ha anche lei sindaco, è un po' riguardo alle tempistiche di tutto il progetto olimpico, insomma dietro l'angolo, vero il 2026? Allora, ha perfettamente ragione, ce l'ho io come ce l'hanno un po' anche tutti quelli che sono coinvolti in questa operazione del 2026, dal governatore Zaia a Sala, perché di fatto si chiacchiera tanto, i progetti stanno andando avanti, ma non vengono messi a terra. Nell'ultima riunione che abbiamo avuto due settimane fa con il Ministro, anche lui ha chiesto un'accelerazione, perché le opere sono opere importanti, che non si fanno al giorno e alla notte e quindi di conseguenza dobbiamo incominciarle. Io spero che il 23 ci sia la conclusione di tutta la parte progettuale, fine 23, inizio 24 voglio vedere i cantieri, perché se no perdiamo di credibilità e soprattutto io non posso permettermi di avere una cortina olimpica che nel 26 ha ancora cantieri, cioè io voglio una cortina, siamo pronti a sacrificarci, lavorare in tal senso che però nel 26 sia già il suo massimo splendore. Ecco, fra gli aspetti salienti ovviamente il tema della viabilità. Assolutamente, diciamo cortina viene coinvolta, poi parlo di cortina però magari anche due parole lo facciamo anche sul Cadore e su Longarone, perché è chiaro che cortina è una locomotiva ma ha bisogno di tutta la provincia. Quindi se vogliamo migliorare la viabilità e l'arrivo cortina non possiamo prescindere dalle varianti sia di San Vito, di Valle e di Pieve di Cadore e di Longarone. Quindi queste cose devono andare insieme e io per primo come sindaco l'ho sempre messo sul tavolo, non è questione di campanilismi. La viabilità nostra noi abbiamo di fatto una bretella che è quella che verrà interessata sotto via delle guide, che per noi è il sine qua non, legata all'impianto, è il sine qua non per quanto riguarda anche la gestione dell'evento olimpico. Quella dobbiamo averla, deve partire prima. Diciamo la variante invece, diciamo quella è la galleria, è logico che è già stato detto nel 26 non la vedremo, però nel mentre devono partire i lavori perché io non voglio poi delle cose che si blocchino. Sono già tutte opere finanziate e quindi chiedo, mi rivolgo a lei adesso, ma a chi ci ascolta, che chi si è preso l'impegno poi lo porti a termine. Non possiamo vedere catedrali nel deserto che rimangano là perché non ce lo meritiamo nessuno. Infatti il proprio ragionamento, il cuore è proprio questo, cioè il valore di un evento come le Olimpiadi, i giochi invernali 2026. Cioè la ricaduta ovviamente sono la grande opportunità per la provincia dolomitica. Assolutamente, io penso che chi mi ha preceduto e anche il governatore Azaia quando hanno fatto il ragionamento sulle Olimpiadi erano le eredità che queste avrebbero lasciato. Al di là dell'evento sportivo che è bellissimo è quello che c'è l'upgrade su un territorio, parliamo di viabilità ma poi di servizi. Questi sono il sine qua non per cui vengono prese le Olimpiadi e quindi non possono essere disattesi. Tutti quanti per le proprie responsabilità stiamo premendo perché queste cose avvengano e è l'obiettivo. Se falliamo questo fallisce un sistema che oggi è cortina ma se questo è il sistema che viene utilizzato da tutti vuol dire che c'è qualcosa da sistemare. Senta Sindaco, un banco di prova comunque, un test importante è stato sicuramente anche la Coppa del Mondo di Ski Alpino. Beh assolutamente, intanto i due eventi che ci sono stati sono stati diciamo un successo e lì approfitto della TV per fare i complimenti alla fondazione per l'ottimo risultato ottenuto ma un po' tutto il comparto, anche alla stessa amministrazione perché anche noi come diciamo come lavori pubblici abbiamo dato una mano e a tutto quello che è comparto che ha fatto sì che questo avvenisse nella maniera migliore, anche il TPL e il trasporto. Quindi sì, è stato un successo. Abbiamo fatto un po' di test in base ai quali abbiamo colto delle cose che vanno corrette, delle cose che sono date molto bene. Quindi sono molto soddisfatto e sono anche soddisfatto di vedere anche magari degli errori perché è grazie a questi che poi si cresce e si arriverà preparati per il 26. Sono contentissimo poi soprattutto perché è arrivata anche quella maschile che era da 32 anni che non ce l'avevamo e quindi sono molto orgoglioso di averla potuta ospitare come sindaco. Ecco, accanto alle Olimpiadi ovviamente le Paralimpiadi, altrettanto importanti quindi tutto il grande lavoro sul fronte anche dell'inclusività che si sta facendo già da ora. Beh diciamo le Paralimpiadi sono forse diciamo lo sprono maggiore per l'amministrazione comunale perché comunque l'inclusività di Cortina è un obiettivo che ci farebbe andare, ci farebbe arrivare anche dal punto di vista di un'offerta turistica veramente a massimi livelli. È un qualcosa che però non possiamo fare da soli come amministrazione. A noi sì le competenze per quello che riguarda diciamo il pubblico ma è una partita che dobbiamo fare insieme agli albergatori sicuramente e a tutti quelli che offrono servizi. E poi al di là dell'adeguamento, parliamo dell'offerta turistica alberghiera quindi l'adeguamento delle strutture alberghiere, io mi aspetto di avere delle strutture inclusive ma soprattutto anche una mentalità di inclusività quindi che non può essere limitata alla stanza ma anche un approccio dove un albergatore conscio della struttura adeguata accolga chi ha delle disabilità in una maniera normale come accoglie me e lei e questo secondo me è il vero obiettivo. È logico che però per far sì che questo avvenga anche la regione ha messo in piedi un tavolo tecnico in maniera tale da supportare i nostri operatori e anche l'amministrazione in un'ottica comune, una strategia che possa essere condivisa che sia da traino per tutti perché se facciamo squadra e abbiamo degli obiettivi è più facile seguirla. Se lasciamo ognuno random andare dove vuole rischiamo poi di disattendere quelle che sono le aspettative e quindi diciamo che i presupposti sono buoni però anche lì bisogna correre. E su questo fronte comunque quello che lei sollecita è innanzitutto anche un cambiamento nell'approccio culturale in sé. Senta Sindaco, lei ha citato prima la fondazione Cortina con la quale ovviamente c'è un grande lavoro altrettanto importante la fondazione Milano Cortina 2026. Assolutamente sì, diciamo Simico che è questa fondazione Milano Cortina diciamo con la quale adesso c'è il nuovo amministratore delegato Andrea Vernier poi c'è Giovanni Malagò, insomma abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo chiesto anche sempre in quella riunione che le pronunciavo prima di Milano abbiamo avuto l'opportunità di metterci intorno a un tavolo abbiamo chiesto da metà febbraio delle riunioni diciamo più puntuali sul territorio per capire l'approccio e anche per dare una maggiore visibilità perché se vogliamo che queste Olimpiadi vengano diciamo vissute bisogna viverle tramite un'immagine, tramite una comunicazione che non può essere limitata solo a Cortina ma a livello provinciale. Noi dobbiamo far capire che quando la gente viene nella provincia di Belluno è una provincia olimpica con quelle che sono le caratteristiche che ognuno ha all'interno di questa cosa qui quindi abbiamo deciso di trovarci per incominciare a capire che immagine dare e dare anche l'opportunità a tutti gli operatori di poter usufruire di un marchio perché comunque è un brand importante che già sul territorio lo vediamo col turismo come si è incrementato in questi anni grazie a questa cosa qui però bisogna dare anche un'immagine forte. Beh su questo però Cortina già è avanti diciamo così. Avanti tra virgolette, Cortina gode del nome di Cortina e va bene però bisogna anche dare un'immagine, bisogna respirarla questa atmosfera olimpica e bisogna respirarla con eventi come quelli che ci sono stati queste due settimane e le prossime settimane perché non dimentichiamoci che abbiamo lo snowboard e il parasnowboard quindi voglio dire abbiamo tante cose sul tavolo però io voglio che si respiri a livello anche di chi mi sta vicino dei miei sindaci vicino perché se facciamo squadra si può lavorare adesso gli stiamo coinvolgendo abbiamo fatto delle riunioni con Sua Eccellenza il Prefetto per vedere anche per quanto riguarda diciamo poi l'alloggio delle forze dell'ordine che avremo nel 26 perché non se ne è mai parlato ed è un problema, è un tema abbiamo coinvolto due giorni fa il sindaco di San Vito, il sindaco di Borca, il sindaco di Valle già lì si vede una collaborazione dove ognuno può mettere sul tavolo quelle che sono le esigenze dei propri comuni e metterle a rete e sistema in maniera tale che magari a livello di finanziamento o delle agevolazioni perché anche loro crescano se ragioniamo così è una vittoria per tutti io non voglio essere quello Cortina è stata no, Cortina è stata una locomotiva che ha arricchito una provincia e magari riteniamo i nostri giovani a lavorare in provincia e non li mandiamo fuori ecco sindaco lei parlava poc'anzi anche del prefetto della prefettura quindi molto importante tutto l'ambito della legalità assolutamente in vista ovviamente dell'evento anche su questo le riunioni sono continue sì diciamo che giustamente il prefetto ci ha evidenziato queste problematiche devo dire che siamo tutti attenzionati perché è fondamentale che dobbiamo far sì che gli imprenditori vengano a investire a Cortina ma che siano imprenditori seri prima di tutto perché è giusto che sia così ma anche per aver certezza che poi non ci siano speculazioni ma che siano dei servizi fini a quello che poi dovranno dare sul territorio quindi c'è la massima allerta sia da parte mia come amministrazione ma anche di tutte diciamo la parte diciamo di controllo dalla finanza, la polizia, i carabinieri per far sì che il controllo ci sia e sia accurato e devo dire che le cose stanno andando molto bene senta io avrei ancora altre domande Lorenzi da farle sul fronte delle Olimpiadi ma variamo un pochettino perché ovviamente non c'è solo questo c'è molto altro comunque fra i temi parliamo anche di come sta andando innanzitutto questa stagione invernale diciamo che siamo artiti col botto già parliamo dell'estate che è andata molto bene l'inverno stia andando altrettanto bene la fortuna della nevicate perché devo dire che anche le nevicate sono arrivate nel momento giusto in quantità giusta quindi le abbiamo gestite bene e quindi questo ci ha agevolato a discapito poi di zone che magari non hanno avuto la fortuna di avere la neve quindi questa volta è toccato a noi quindi molto bene siamo nelle settimane bianche siamo nelle settimane bianche l'affluenza c'è ma soprattutto è tornata anche il turismo internazionale che è quello che a noi interessa al di là di quello italiano anche quello internazionale è tornato quindi sentendo i miei operatori, gli albergatori c'è molta soddisfazione da quello che sento tutta la stagione invernale sembra ben prenotata quindi gli auspici sono ottimi poi con questi eventi insomma diciamo che di offerte ne diamo ecco un ruolo importante è comunque anche quello della cultura perché Cortina non è solo sport ma è anche cultura pensiamo per esempio alla rassegna che voi promuovete per esempio una montagna di libri proprio con l'associazione Francesco Chiamulera promotore di questa importante rassegna beh diciamo che Cortina si è sempre contraddistinta dal punto di vista dell'offerta culturale sia invernale e estiva Francesco la impersonifica nel miglior modo che poteva essere quindi io come sindaco sono più che contento di poter contribuire come amministrazione a far sì che il suo diciamo la sua rassegna abbia il successo anche perché lo vediamo anche con gli ospiti che invita sono ospiti di altissimo livello culturalmente molto diciamo anche all'avanguardia e sui temi importantissimi quindi penso che stiamo adempiendo nella maniera giusta è logico che è importante circondarsi di persone capaci che offrono all'amministrazione in questo caso dei servizi puntuali e soprattutto di altissimo livello lui penso che stia accogliendo perfettamente l'obiettivo ecco questa per citare una delle rassegne più importanti ovviamente che ci sono per tutta la parte musicale perché insomma quest'anno abbiamo avuto vari concerti abbiamo anche cominciato a fare delle diciamo delle esibizioni un po' più come si può dire leggere con degli ospiti dal punto di vista anche io li chiamo ex zelig insomma delle cose un po' più leggere devo dire che abbiamo avuto una bellissima risposta stiamo cercando di ampliare un po' quello che è lo scenario anche dal punto di vista culturale musicale e di diciamo di intrattenimento cercando di dare sì un ultimo livello ma anche cercare magari di dare dei livelli più leggeri perché magari la gente vuole anche essere un po' più spensierata quindi devo dire che il mio sessore la Monica De Mattia sta lavorando molto bene ovviamente un ruolo importante per esempio è anche riservato ai giovani un'attenzione insomma verso questa fascia della popolazione così come anche agli anziani naturalmente su questo fronte per esempio che novità ci sono? Beh diciamo sui giovani abbiamo appunto la carta giovani che di fatto era già qualcosa già di esistente l'abbiamo implementata e devo dire grazie alla Monica all'assessore Monica De Mattia alla Monica Dallaus e all'Alessandra Boccus perché sono un assessore e due consiglieri molto attenti a questo tema stiamo cercando di coinvolgere non è facile coinvolgere i giovani perché comunque bisogna dare dei servizi che come amministrazione facciamo fatica a dare però magari riusciamo a collaborare con gli imprenditori vediamo anche l'apertura adesso che c'è stata del Belvedere una realtà nuova che è proprio per i giovani quindi da quel punto di vista siamo molto attenti però non è facile mettere a terra qualcosa per loro io penso che comunque nel concetto generale dove stiamo cercando di fare un upgrade a Cortina anche i giovani possano ritrovarsi in un sistema più diciamo accogliente e che offra anche loro dei servizi nuovi per quanto riguarda gli anziani sicuramente diciamo noi di fatto abbiamo la nostra casa di riposo dove siamo molto attenti sugli anziani penso che la parte culturale possa interessare molto poi abbiamo l'università degli anziani dove anche lì mettiamo a disposizione la sala e finanziamo per farli ritrovare perché poi non è che chiedono molto chiedono dei momenti diciamo di confronto e di colloquio per noi sono una ricchezza e come tale devono essere trattati Sindaco io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato è davvero tanto il lavoro insomma che c'è tutti i giorni qui a Cortina e quindi non ci resta che augurarle davvero buon lavoro per le tante attività grazie a lei per essere venuti a trovare rimango disponibile saluto tutti e buona giornata a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti